Punto stampa convocato dal direttore Maurizio Di Giosia presso l'ASL di Deramo sulle iniziative volte allo snellimento delle liste di attesa e sulla gestione pandemica. Occasione per il responsabile regionale sui vaccini, dottor Maurizio Brucchi, per rimarcare la bontà del lavoro sin cui svolto e per spegnere alcune polemiche sui presunti ritardi riguardanti l'inoculazione della terza dose e sul numero di hub vaccinali presenti sul territorio abruzzese. Innanzitutto un rallentamento relativo perché siamo tre punti sotto la media nazionale, quindi insomma è relativo, ma dipende dal fatto che noi nella prima fase della vaccinazione ha vaccinato una serie di categorie che oggi non avendo ancora compiuti sei mesi non possono accedere alla vaccinazione perché oggi possiamo vaccinare solo quelli over 60, quindi è un fatto tecnico che dipende dalla prima fase della campagna vaccinale nella quale siamo andati benissimo. Dobbiamo anche ricordare che la terza dose è su base volontaria, seppure noi stiamo facendo anche un'attività chiamata e quindi chi vuole viene a vaccinarsi, però insomma mi sembra che siamo perfettamente in linea con quella che è la campagna vaccinale. Anche sul numero degli hub in regione c'è stata una lieve riduzione, ma non tanto in termini numerici quanto in termini di dimensioni degli hub, cioè abbiamo qualche spoc in più e qualche hub in meno, perché appunto la necessità è diversa, si parla solo di terza dose e non di prima e seconda dose, però insomma mi sembra un dato, questi due o tre punti percentuali che recupereremo in breve tempo, in questo momento si sta incrementando anche le sommizzazioni delle terze dosi, quindi insomma non parlerei di ritardo. È importante vaccinare intanto le categorie più a rischio, come abbiamo fatto, che abbiamo già vaccinato gli ultafragili, abbiamo vaccinato le RSA, le RAA, abbiamo vaccinato i fragili, abbiamo vaccinato i medici e il personale sanitario che sono le categorie più a rischio. Adesso ci dedicheremo agli over 60 e appena apriranno anche le categorie sotto questi 60 anni vaccineremo anche loro. Quanti sono i non vaccinati, dottore, ricoverati rispetto ovviamente a chi ha eseguito tutte le dosi? Allora, sui ricoverati diciamo quasi tutti sono persone che hanno fatto una dose sola, abbiamo anche qualche ricovero in Abruzzo di quelli che hanno fatto entrambe le dose, ma sono ricoverati non per patologie legate al Covid ma per altre patologie, può capitare che se uno per far capire ha una colica renale, però risulta Covid positiva al controllo quando è il proprio soccorso, ovviamente quello va a malattie infettive, ma non è un paziente Covid, quindi non abbiamo nessuno con due dosi che abbia la polmonite, mentre abbiamo quelli con una dose sola senza dosi che fanno la polmonite.